Non è conosciuto il fatto che questo tipo di rete è stata creata proprio per permettere alle forze dell'ordine, parliamo di servizi più che di forze di polizia, è stato creato per avere un punto di aggregazione di tutto quello che è la malavita, la dissidenza, l'underground. È un posto dove c'è il malaffare ma dove c'è anche un binocolo, una bella videocamera puntata lì. Non un porto franco ma uno degli spazi più monitorati al mondo. Non a caso le malsane intenzioni del 34enne di Vazzola che ha tentato di assoldare un sicario per eliminare il rivale sono state intercettate dall'altra parte dell'oceano, niente meno che dall'FBI. L'informatico ed esperto di cybersicurezza, il vicentino Carlo Alberto Sartor, ricorda come sia stato proprio il governo americano nel 1990 a creare questo contenitore per attrarre i criminali della rete. E quindi è un posto soggetto a dei controlli e a delle attenzioni molto più alte che qualunque altro posto, andare a fare una cosa del genere diciamo è da polli. Gli accessi al dark web sono sempre più numerosi anche da parte di curiosi che forse neanche sanno di diventare potenzialmente dei sospettati. Quindi scaricando un determinato software si può accedere a questa rete che è dark perché non si trova direttamente nei motori di ricerca sostanzialmente, cioè non è accessibile al primo che passa. Diciamo un po' come andare in un club privato, ecco, questa è la traduzione semplice. Chiaramente queste stanze particolari sono nate con degli obiettivi ben precisi che sono quello di fare un po' il posto dove si trova il mercato nero. A quel punto, spiega Sartor, si aprono due scenari. O uno è talmente criminalmente attrezzato che effettivamente mette a disposizione un servizio criminale a pagamento e ce ne sono. Poi c'è una parte invece in cui siamo alla millantazione o comunque al fatto che si scrive quella roba lì ma poi in realtà l'importante è che uno paghi e poi non si fa quello che è stato. Anche perché chiaramente non esiste la fattura, non c'è la garanzia e molte volte la millantazione è la trappola più frequente.